Allora, buonasera a tutti, grazie di cuore per questa attenzione. Buon lavoro a Nicola Zingaretti, buon lavoro al Partito Democratico Tutto. Grazie per la grande partecipazione di oggi. Questa è la prima notizia e credo la prima consapevolezza che tutti noi abbiamo. È stata una grande giornata di partecipazione. È stata veramente una giornata per tutto il Partito Democratico straordinaria alla faccia di chi mille volte ha raccontato l'ipotesi di un flop. Noi già da settimane dicevamo, attenzione, che ancora una volta i nostri elettori vi stupiranno ed è accaduto anche questa volta, è accaduto anche oggi. Abbiamo fatto la nostra parte, l'abbiamo fatta con la consapevolezza che il Partito Democratico dovesse vivere questo passaggio in una logica di confronto, di progettualità, di ascolto e anche di competizione tra idee e proposte differenti. Voglio anche dire che ovviamente Nicola Zingaretti è il nostro segretario, i nostri elettori hanno parlato, hanno scelto e da oggi noi lavoriamo fianco a fianco con lui, senza se, senza ma, senza nessun dubbio, nessuna discussione. È il nostro segretario e lavoreremo con lui alla nuova stagione del Partito Democratico per l'Italia. Penso che quello che i nostri elettori ci hanno dato oggi, hanno dato a Nicola e hanno dato a tutti noi, è uno straordinario capitale di fiducia che adesso va speso bene per il Paese. Penso che il PD sia in buone mani e penso che si aprirà una bella stagione di impegno per tutti noi. Noi vogliamo regalare a Nicola questa maglietta, che è la maglietta con cui siamo partiti e siamo somma, non divisione, continua ad essere il messaggio fondamentale anche di oggi che noi porteremo anche nel nuovo Partito Democratico. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a voi. Questa per Nicola. Mi sembra che la taglia ci stia tutta.